Tocca anche ai vertici nazionali del PDL, la tranche delle indagini sulla Sanitopoli abruzzese che si è aperta negli ultimi mesi a seguito delle rivelazioni dell'ex moglie del deputato Sabatino Aracu, già coordinatore regionale di Forza Italia e oggi segretario del gruppo parlamentare a Montecitorio. Stretto collaboratore dunque del capogruppo Fabrizio Cicchitto, un tandem operativo da oltre un decennio alla luce del memoriale reso ai magistrati della procura di Pescara da Maria Maurizio, moglie separata di Aracu, per operazioni non sempre trasparenti. Le indicazioni della Maurizio, apparse stamani sul settimanale L'Espresso, aggiungono più di uno spunto alle indagini già in corso da parte del pool di Trifuoggi sul rapporto perverso tra politica abruzzese e cliniche private e che hanno portato il 14 luglio dello scorso anno all'arresto tra gli altri del presidente in carica della regione del Turco. Già all'epoca, assieme a pace a Domenici, Aracu venne tirato in ballo dalle dichiarazioni di Enzo Angelini, ma le rivelazioni dell'ex moglie circostanziano ora in modo più dettagliato le accuse nei confronti dell'allora dominus abruzzese di Forza Italia. La Maurizio ha dichiarato di essere stata testimone di un giro di tangenti non soltanto da parte di Angelini, ma di altri imprenditori della sanità privata abruzzese, a beneficio del suo ex marito, anche per conto di Cicchitto. Un racconto che entra anche nei dettagli di corrotti e corruttori, in quest'ultimo caso anche parte di Aracu, di attività imprenditoriali al limite della legalità, di peculato riguardante beni e fondi della federazione pattinaggio presieduta da Aracu e chi più ne ha più ne metta. Non manca poi il versante più strettamente politico delle accuse, seggi parlamentari al maggior offerente, come nel caso citato nel memoriale dell'attuale coordinatore regionale del PDL Piccone, una pratica che al di là delle implicazioni criminali induce anche ad una riflessione sui meccanismi di selezione del personale politico dopo l'entrata in vigore della legge elettorale passata la storia come porcellum. Per i curiosi, per i voyeur o per chi, come d'abitudine in questi tempi liquidare la questione, ama il gossip, i particolari sono anche online sul sito dell'Espresso. Sta di fatto che il memoriale, noto da tempo, aggiunge altra carne al fuoco dell'inchiesta sulla sanità abruzzese, apre ulteriori spunti investigativi in altre direzioni e spiega a posteriori anche il lento progressivo defilarsi di Aracu dai giochi del Mediterraneo e più in generale dalla politica locale. Come a Del Turco e agli indagati della prima ora, anche ad Aracu e Cicchitto, con il vantaggio delle immunità e pieno diritto di difendersi in tribunale, quando sarà il momento, alla politica e a quella abruzzese in particolare, il compito almeno di interrogarsi sul modo trionfale con il quale ha debuttato dalle nostre parti la cosiddetta Seconda Repubblica.